Ciao a tutti, oggi andiamo a preparare insieme le cipolline siciliane, veloci, facili e buonissime. In una padella ben calda mettiamo due fili d'olio, 400 g di cipolle, io le ho tagliate finemente, e lasciamo rosolare per circa 10 minuti. Aggiungiamo sale e pepe e appena sono trascorsi i 10 minuti aggiungiamo due cucchiai di acqua e uno di aceto. Io uso dell'aceto normalissimo per insalata, quindi aceto bianco o aceto anche rosso, va benissimo. Trascorsi i 5 minuti sarà tutto evaporato, quindi non ci sarà più quell'odore di aceto, aggiungiamo un cucchiaio abbondante di concentrato di pomodoro. Mescoliamo e lasciamo cucinare per altri 10-15 minuti. La cipolla dovrà risultare trasparente e quando l'andate a schiacciare con un mestolo o una forchetta dovrà sfaldarsi. Dopodiché prendiamo una sfoglia già pronta, la dividiamo prima in tre parti verticali e dopodiché una bella linea e facciamo 6 quadratini. Aggiungiamo del prosciutto, della mozzarella e infine andiamo a mettere dentro la cipollina. Appunto cipollina viene dal nome che viene condito con tanta cipolla, cipollina. Mettiamone abbondante, pensate che con 400 grammi di cipolle dovete farci 6 cipolline, quindi regolatevi più o meno voi a dosare per ogni singola cipollina. Dopodiché è semplicissimo, prendiamo tutte le estremità e le portiamo al centro come se stiamo facendo una busta di una lettera e mettiamo uno stuzzicadenti al centro. Mi raccomando prima di servirli toglietelo, però solo in cottura, cioè una volta usciti dal forno potete togliere lo stecchino così non cade. Chiudete tutti i buchini che rimangono e il gioco è fatto. Dovete soltanto spennellare con dell'uovo e infornare. Io ho infornato a 200 gradi per 15-20 minuti perché così c'era scritto nella confezione della pasta sfoglia. Voi quindi guardate cosa c'è scritto nella vostra carta. Ed eccole qua, c'è un profumo buonissimo di cipolla. Le cipolle così non risultano nemmeno pesanti, sono facili da digerire e sono veramente favolose. Ve le straconsiglio, io ringrazio tantissimo Daniela in Cucina con Amore perché la ricetta l'ho vista da lei. Ciao Dani, grazie mille, già questa è la stessa volta che l'hai fatta. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, guarda questo video e pollicine su. Ciao!